Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning Oggi andiamo a scoprire insieme qual è il mio regalo di compleanno Il regalo di compleanno offerto dai miei genitori è da lineaoriginale.it Vi lascerò il link in descrizione del sito e di tutto il contenuto che ci sarà qui dentro Devo dire che il pacco si presenta benissimo Veramente perfetto Grazie a lineaoriginale Che offre praticamente tutti i ricambi originali di qualsiasi marchio sul proprio sito Infatti come possiamo vedere Fiat Lancia ricambi originali Quindi ragazzi non so da dove iniziare ad aprire l'invallo Comunque andiamo un po' Allora Mamma mia Mi sto sentendo malissimo Al contrario non ci posso credere No vabbè Oh mio dio Penso che già comunque tutti avrete capito cosa è della grandezza Allora vediamo un po' Ok ragazzi cominciamo con l'unboxing Per questioni di tempo faccio una registrazione sopra il video E si comincia ovviamente dal pezzo forte Il clou del clou Il paraurti anteriore Della mito veloce 2016 Tanta roba tanta roba tanta roba Tantissimi sulle storie mi avete chiesto cosa è e cosa non è Sono le minigonne Il paraurti è il paraurti della mito veloce Chi ha scoperto ha proprio azzeccato E' veramente fantastico grazie ancora all'ina originale E' veramente bellissimo Cioè è fatto veramente bene Esteticamente è stupendo Non c'è tanto da dire Ovviamente il kit comprende anche i fendi nebbia Tutti il resto degli accessori annessi alla musata Tranne i fari quelli Ti tieni tu insomma Poi abbiamo la mostrina Defendi nebbia Con il baffo brunito Che più avanti andrò sicuramente a ritoccare Non vi dico cosa ci farò però Non spoilero niente Ovviamente vi faccio vedere solo la parte destra o sinistra Ovviamente nel kit ci sono entrambe le parti Sia destra che sinistra Questa è una parte che va dietro il griglione O dietro la mostrina di fendi nebbia Non ho ben capito Comunque lo scopriremo una volta che andrò a montare il paraurti Non dovrebbe essere così complicato Tanto alla fine i pezzi lì vanno Non c'è poco da fare Questo è il pezzo veramente top ragazzi Questo senza questo pezzo la macchina non è un Alfa Romeo Sì stiamo parlando proprio di lei Della Calandra Della Mito O della Giulia Della Giulietta Di qualsiasi Alfa Romeo La Calandra proprio Secondo me è l'anima Senza questo pezzo non è un Alfa Romeo È stupenda La V brunita lucida Lo stemma nuovo Molto bello Che probabilmente dovrò togliere In quanto io ce l'ho tutti in ericromo E qui dentro Non capivo all'inizio cosa fosse Cioè ci ho messo un po' a dire la verità È il Parasalsi Che si mette sotto al Paraurti Quello dove tutti tocchiamo sui dossi Cioè è scontatissimo E a tutti si stacca Questo è il griglione unico Reso unico Su quella precedente erano due griglie separate E così è fatto veramente meglio Eppure sembra al tatto molto più resistente Veramente tanta tanta roba ragazzi Ok ragazzi Siamo giunti alla conclusione del video Abbiamo visto insieme L'unboxing Di tutte le scatole Contenute dentro il Maxi scatolone Speditomi Da Linea originale Ci tenevo a precisare Che trovate nella descrizione Tutti i link Riguardanti Linea Originale Punto it E inoltre Trovate lo sconto Che ha rilasciato Linea originale Lo sconto dedicato Proprio a voi Che state guardando questo video Uno sconto del 5% Da utilizzare sul sito Linea originale Punto it Ve lo faccio rivedere E lo potete utilizzare E spendere Su qualsiasi Articolo Che trovate sul sito Quindi Pedaliere Diffusori Posteriori Paraurti Fari Fendinebbia Che più ne ha Più ne metta Trovate tutto sul sito Sbizzarritevi E inoltre Non è uno sconto dedicato Solamente All'Alfa Romomito Ma anche Per altre vetture Di altri Marchi anche Quindi ragazzi Che dire Il video si conclude qui Per qualsiasi Informazione Contattatemi Nei commenti O per email Su Instagram Su Facebook Dove vi pare E inoltre potete contattare Anche Lina Originale Alla mail Info E inoltre potete Sbizzare E inoltre potete